Hola gente, oggi spacchettiamo questi due pacchetti, quello nel prossimo video Sì, accendiamo le luci che non si vede niente Avremo il primo pacchetto di figurine Pacchetto anteprima, signori Pulisciamo una picca Allora, non riesco a leggere i nomi perché stanno al contrario Cioè, voi li vedete così Questo è un doppione Però io li 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 al contrario Adesso cerco di aprirlo da questo lato Perché il pacchetto mi piace molto Quindi prendiamo le forbicine O incidere Un'apertura qua Si sta incidendo pure davanti Ok Oh, si sta a posto Vediamo allora Nooo, non trovo più una Beh, bella questa figurina Pacchetto salvato Adesso cerco di... Ok Pacchetto salvato Nel prossimo video Apriremo questo Certo Certo Certo